Stefano Nicoletti vince la dodicesima edizione Gran Fondo Bruno Raschi, Memorial Fausto Binacchi e tra poco Nicoletti ci raggiungerà qui alla postazione microfonica stiamo attendendo Montanari e gli altri corridori in precedenza il vantaggio di Nicoletti su Montanari era 30 secondi e c'è la maglia bianca di Montanari che conquista una meritatissima seconda piazza bravo Montanari